Ben trovate, ben trovati. Bentornati in questa rubrica che è Sentieri d'amore. Questa rubrica è dedicata alla psicologia della coppia, alla psicologia del noi. La rubrica in cui cerchiamo di comprendere la psicologia delle relazioni affettive. Allora, continuiamo a parlare di tradimento. Abbiamo fatto un video principale, il video principale è quello con i 10 più 1, quindi con gli 11 motivi per cui si tradisce. Ecco, in quel video, se non l'avete visto andatelo a vedere, trovate il link in descrizione, ho cercato di raggruppare tutti i possibili motivi per cui si tradisce in coppia. Gli 11 motivi per cui si tradisce. Perché è importante capire perché si tradisce? Perché chi subisce un tradimento può comprendere quello che è successo con una mappatura sicuramente più ampia, migliore. Ma anche chi tradisce può comprendere. Perché molto spesso, questo è difficile da accettare, però molto spesso anche chi tradisce rimane traumatizzato dall'esperienza. Rimane spesso perlomeno colpito e stupito. Perché immaginava di non poter tradire, di non riuscire a tradire, di non essere quel tipo di persona, come molti dicono. E quando si ritrova a farlo, chiede proprio perché ho tradito, perché tradisco, che cosa succede dentro di me. Cerchiamo con questo video di approfondire altri due motivi per cui noi tradiamo. Allora, abbiamo visto nello scorso video i primi due motivi. Problemi di coppia e vendetta o punizione. Cerchiamo ora di aggiungere il terzo e il quarto motivo. Il terzo motivo è no comunicazione, mancanza di comunicazione. Che vuol dire mancanza di comunicazione? Che si sta a zitti tutto il tempo, che in qualche modo non c'è mai una parola detta, c'è sempre un costante silenzio. In realtà non è così. La mancanza di comunicazione ha più sfaccettature. Per esempio, la difficoltà a parlare di problemi o di difficoltà sia pratiche sia della coppia. Ci sono coppie che parlano, parlano tanto, parlano di tutto, ma hanno una grandissima difficoltà a parlare di questi argomenti. E questa è una comunicazione inadeguata per una coppia. Quindi possiamo dire che già questo può creare incomprensioni e frustrazioni. Perché non ci capiamo mai, non parliamo mai dei nostri problemi, di quello che succederà di noi. E si creano continui incomprensioni. In più, ognuno dei due è frustrato perché sente di essere solo nell'affrontare i problemi. Altro caso di mancanza di comunicazione è la distrazione. Di solito uno dei due partner in coppia lamenta la mancanza di attenzione dell'altro. Cioè l'altro è sempre distratto. Quando provo a parlargli, io ricordo sempre le frasi che mi vengono dette, quando provo a parlargli, lui o lei, parlargli o parlarle, lui o lei pensa sempre ad altro, fa finta di ascoltarmi, fa sempre altro. Quindi la mancanza di attenzione. Si parla, ma si parla in modo assolutamente distratto, disattento. Questa è un'altra cosa da tenere bene d'occhio. Altro esempio che possiamo fare è il parlare sempre e solo di alcune cose. Comunicazione ripetitiva, ridondante. Uno dei due finisce per parlare sempre della famiglia dell'altro, di come qualcuno la tratta male, oppure dei problemi economici, oppure solo e sempre dei figli. Di solito non sono mai argomenti, come dire, spensierati e allegri, ma anche se lo fossero, capiamo questo, anche se si parla solo e sempre di come divertirsi, di quale film vedere, della vacanza da fare, una comunicazione iperfocalizzata, una comunicazione che non abbraccia tutti gli aspetti, ma si ferma solo ad alcuni, è una comunicazione inadeguata. La coppia è un mondo che va curato con tanti piccoli accorgimenti. Quindi vediamoli queste modalità. Provate a pensare se nella vostra coppia c'è già qualcuna di queste tre modalità. Potremmo aggiungerne altre, per esempio il silenzio punitivo. Ogni volta che si litiga ci sono periodi più o meno lunghi di silenzio da parte di uno dei due. Cioè non ti parlo. Può durare un giorno, una settimana, ho visto coppie in cui durava anche un mese il silenzio punitivo. Il silenzio punitivo, questa modalità di negare la comunicazione per mostrare il proprio disappunto, la propria rabbia, diventa un'altra modalità estremamente pericolosa. E che c'entra con il tradimento? Beh, possiamo dire che quando una persona si ritrova in una coppia in cui la comunicazione viene bloccata con tutti questi meccanismi e con altri, in cui sente di non potersi esprimere, in cui sente che non c'è dialogo, c'è al massimo dibattito, si discute solo su chi ha ragione, si arriva sempre al litigio, sempre al conflitto, è abbastanza naturale che quando trova un'altra persona con cui riesce ad esprimersi, con cui riesce ad avere un dialogo aperto, con cui riesce a parlare di sé, dei propri bisogni, di quello che prova, delle proprie emozioni, è fortemente attratto, attratto, non tanto attratto, attratta, è non tanto dalla persona, ma dalla situazione. Quindi queste sono tutte cose che favoriscono il tradimento. Ora, andiamo avanti e vediamo il quarto motivo. Il quarto motivo è il disturbo di personalità. Perché è importante questo quarto motivo? Perché apre sostanzialmente un altro tipo di motivo, un altro tipo di tradimento, direi, ecco questo è quello che mi viene, un tradimento che non dipende da problematiche relazionali, che non dipende in qualche modo dall'altra persona, dal partner, non dipende dalla qualità della relazione, ma dipende dalla propria vita interiore, dalla propria stabilità psichica, dalla propria maturità emotiva, e, ahimè, a volte dalla propria salute mentale e psichica. Perché quando siamo con persone che hanno o dei forti tratti di personalità di un certo tipo, o addirittura un disturbo di personalità, è la, attenzione, diventa difficile per il partner capire quello che sta succedendo e diventa anche difficile per la persona gestire i propri impulsi. Che cosa voglio dire? Che, faccio un esempio, la personalità che oggi viene citata sempre più spesso, la personalità narcisistica, per i tratti che ha, o se si arriva al disturbo narcisistico, sarà molto propensa al tradimento. Perché? Perché il narcisista ha sempre bisogno di continue conferme, dell'applauso del pubblico, di piacere a tutti, di piacere a tanti, di essere grandioso, di sentirsi grandioso. Quindi non può accontentarsi di una donna o un uomo che lo ami. Ma il narcisista ha bisogno di provare che può piacere a tutti e quindi tenderà a ricercare continui flirt, continue storie parallele per confermarsi. Altro tratto del narcisista, non del narcisista, della personalità narcisistica, perché ognuno di noi ha una parte narcisista. Altro tratto è quello della strumentalizzazione delle relazioni, quindi difficoltà a impegnarsi in una relazione, come dire, intima, difficoltà a entrare davvero in una relazione d'amore, in una relazione di scambio sincero, in una relazione di fiducia, in una relazione di apertura. Non riesce. E quindi cercherà sempre altre relazioni, tutte superficiali, come il resto delle relazioni che ha come purtroppo quella anche in cui è ufficialmente coinvolto. Altro tratto del narcisista è quello di non riuscire a sentire, percepire empaticamente il dolore che può provocare tradendo. Proprio non ci riesce, quindi in qualche modo non dà al gesto del tradimento il valore di far male all'altro, di dolore per l'altro, di ferita per l'altro, ma pensa come per ogni cosa che è un suo bisogno è un qualcosa che fa per sé, quindi l'altro non è proprio nel suo schema, non è proprio nel suo orizzonte visivo, possiamo dire. Non vede proprio l'altra persona. Però non è solo la, come dire, la personalità narcisistica che tradisce, ma penso per esempio alla personalità borderline. la personalità borderline con questi, con i propri tratti o con un disturbo proprio, borderline di personalità, per altre caratteristiche finisce, può finire per tradire in coppia. Quali sono queste caratteristiche? Continui sbalzi emotivi. Una persona con personalità borderline alterna sempre emozioni molto forti, cioè cade nella disperazione e poi può arrivare alla gioia più assoluta. E quindi quando non hai stabilità emotiva cerchi sempre situazioni che possano dartelo e quindi appena succede qualcosa in una relazione cerchi all'esterno qualcosa che possa tranquillizzarti, qualcosa che possa darti questa stabilità emotiva. Altro aspetto, la personalità borderline vive di schemi relazionali basati sulla valutazione, svalutazione, o meglio esaltazione, svalutazione. O tu sei tutto per me, mi innamoro di te, darei la vita per te, ma se poi mi deludi poco poco cado nella svalutazione più profonda. Tu non sei niente per me, devi starmi lontano, non conti più niente, mi hai ferito tantissimo. Quindi come dire, per questa personalità anche un conflitto forte, un litigio in coppia porta a una svalutazione incredibile del partner, basta, non mi ama, è una persona brutta, pericolosa, cattiva e quindi ricerco altre persone che invece possano tranquillizzarmi. E potremmo continuare con altre caratteristiche, altre personalità, ma non è questo il punto. Il punto è capire proprio che a volte è la personalità, lo stile di personalità, i tratti di personalità o a volte un disturbo di personalità che può portare al tradimento. Quindi vediamo dei primi quattro motivi che abbiamo analizzato, i primi tre problemi di coppia, vendetta o punizione, mancanza di comunicazione, sono, rimangono nello scenario relazionale, nello scenario in cui si hanno reciproche responsabilità. Invece il disturbo di personalità appunto apre un nuovo scenario, apre lo scenario al tradimento dovuto alla vita intrapsichica. Perché insisto su questo? Perché è importante questo? Perché troppe volte noi ci chiediamo perché mi ha tradito, che cosa ho fatto di male, io non me lo meritavo. dobbiamo iniziare a valutare, a pensare, a comprendere, proprio prendere dentro di noi questa lezione. A volte chi tradisce non lo fa per punire l'altra persona, perché l'altra persona lo merita o perché è colpa della persona o perché nella relazione c'è qualcosa che non va, ma lo fa per dei propri tratti di personalità. Ok, nel prossimo video andremo ad approfondire il quinto e il sesto motivo degli undici complessivi, ma vorrei ricordarvi che questi video non sono video esplicativi così per fare un po' di teoria, ma sono video che spero possano servire a orientarci meglio, a capire meglio la nostra vita, la nostra vita intrapsichica e le nostre relazioni. Ok, quindi spero che possano esservi davvero utili. e a questo punto noi ci vediamo nel prossimo video per approfondire altri due motivi per cui si tradisce. ringrazio. Grazie a tutti.